Ciao e bentornati sul canale, abbiamo visto stamattina la pubblicità Ah così, bentornati sul canale Allora, magichi, che ormai sono, guarda i magichi, i magichi esistevano prima che tu nascesse Big edition, aspetta, come non c'è la checklist? La sento che c'è la checklist Aspetta, apro io, eh? No, apro io Good night bears, ce ne sono anche di Blue in the Dark No, sono tutti i Blue in the Dark, solo che uno ha il piancino Che se gli tocchi il pancino Prendi solo la, qual è lo speciale allora? È un orso che ha la pancina, che tu la schiacci e si illumina la guida Solo la checklist, ma tu già sbirci, è spoiler? Eh, un po' Un po' C'è la checklist, checklist, via, checklist, eccola qua Allora, aspetta che mi abbasso, perché abbiamo fatto prima la recensione alta Allora, e cosa cambia dagli altri? È che hanno qualche, magari le scarpe Ah, qualcosa si illumina, non tutto Qua invece è tutta la pancina E quale vorresti? Lei, lei, lei Ah, quella con la luna è bellissima Lei, 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 lei Allora, Diana, Della, Vera Clem Eh... Jerome Jerome Bello Simone Tomy Allora, a me piace Peter con loro loro Peter, Jerome, Diana, ovviamente Vera E anche Trish e Clem Ok E... Vediamo cosa abbiamo trovato Oggi facciamo veloce Sono pure che... Flocati Sì, c'è che abbiamo Gira il foglietto Giriamo il foglietto Clem Giusto? Sì Eccolo qua Vediamo Clem E si illumina il cuscino, immagino Eccolo Wow, ma sono veramente enormi Ma è bellissimo E ora è difficile farvelo vedere Perché siamo in piena luce E è anche difficile ricreare il buio E avere la luce sufficiente Però, se ne prendiamo altri Diciamo che è un po' segnato Forse volontariamente Forse no Perché il floccato nel trasporto si segna un po' Però è bello E lui ha il cuscino Che brilla Beh, non era tra i primi che volevi Però non è neanche brutto Volevo di sicuro Diana e Vera Poi anche Della Nel caso anche Tommy e Clem Clem è tenerissimo Perché guardate come sembra morbido il cuscino Poi visto illuminato di sera Ancora più bello Ah, non ho detto che sono di Agostini Ah, sì Queste le tocchie pancine si illumina Quindi quello ha la batteria addirittura È tanto bello veramente Quindi, li avete visti Avete visto come sono Siete andati in edicola e li vedete Ora sapete come sono A meno questo E più o meno anche gli altri Quindi Vi ricordo di iscrivervi al canale Mettere un like Commentare Schiacciare la campanella Per lasciare aggiornati su tutti i video E condividere i video Se volete Noi come sempre Noi come sempre Ci vediamo Ciao Ciao Ciao